80 dosi di MDMA e un chilo di Ascis, questo il bilancio di due distinte operazioni portate a segno dal commissariato di polizia di Cesena. Sono esattamente due operazioni, come accennava lei, che sono state portate a termine nelle ultimissime ore. Il fine è quello di dare un freno allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cesenate, che ci risulta da quanto emerge dall'attività di indagine abbastanza florido. Nella prima operazione abbiamo arrestato lo spacciatore di una sostanza che è devastante e micidiale, soprattutto per il cervello di chi ne fa uso, parliamo della MDMA. Abbiamo sequestrato 80 dosi che erano pronte per lo spaccio qui nel cuore di Cesena. Invece, per quanto riguarda la seconda operazione, l'obiettivo era un altro degli spacciatori che abbiamo sul territorio e che girava per le vie della città a bordo di una bicicletta con una borsa al seguito carica di droga. Nel caso di specie parliamo di un chilo di hashish. L'hashish, con una sigla sul panetto che ne identifica la zona di provenienza, è di eccellente qualità ed è prodotta su un alto piano del Marocco ed avrebbe fruttato, messa sul mercato, circa 6.000 euro. La pericolosa MDMA, invece, sul mercato avrebbe fruttato oltre 3.000 euro. Il pusher della MDMA è un cesenate incensurato, mentre il secondo è un marocchino pregiudicato. Per entrambi condanna un anno e sei mesi.